ciao ragazzi ed eccoci qua ritornati su clash royale oggi ragazzi mi è andato a registrare un nuovo video perché praticamente ho visto questo video di ciccio gamer 89 ve lo lascio anche qua in alto a destra e sarebbe il deck più antipatico di sempre ma ho visto adesso fra le classifiche ragazzi su su praticamente sul locale ragazzi questo deck che ha fatto praticamente il video ciccio è diventato primo è primo in italia ragazzi quindi ragazzi voglio provarlo anch'io questo è che quindi prima di tutto lo andremo insieme voi a migliorare lo copiamo il mazzo 2 e lo andremo un attimino a migliorare ma prima di tutto ragazzi non sarà un deck possiamo dire tutto maxato purtroppo c'è da dire questo però andiamo ad aprire qualche baule non questo ragazzi non il primo a sinistra perché ci servirà per il mega spacchettamento a fine a inizio mese a inizio mese di luglio ragazzi però andremo ad aprire questi mini bauli dai tanto per aprire qualcosa oggi un po di oro gang mortaio 9 maiali andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti ma vai 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 baule da corona 100 1161 di oro 2 gemme stregone mascalzoni e via terremoto e furia bene missioni abbiamo il domatore va bene disegnati ok e via abbiamo un po di missioni da fare inoltre un altro baule bello da spacchettare insieme è questo questo spacchetteremo a luglio prima di procedere con questo video prendiamo anche le ricompense ragazzi bene 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 3 milioni di oro e 3 moschettieri peccato volevo vabbè volevo il coso come si chiama il mega sgherro però non ce l'ha dato già ce l'ha dato l'altra volta ragazzi è un miracolo va bene così comunque prima di continuare quindi faremo bene questa challenge bene bene andiamo un attimino sul negozio oddio sapete che forse 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 valore mi sa che me la compro valore per due 250 gemme perché ragazzi le emoticon queste qua normali costano sempre 250 gemme ognuna quindi più c'era un baule gangiante sapete una cosa vaffanculo prendiamocelo prendiamocela queste emoticon e più ci da questo baule recluter royal 21 stregoni e due cuccioli di drago allora cambiamo che cambiamo gli stregoni no moschettieri no per favore ok già questo interessante i cuccioli no lo specchio no ok il principe va bene così va bene così ragazzi eccetto questo scambio e in più ecco la nuova emoticon o bella allora no aspettate qua sotto che abbiamo ok ci prendiamo anche questo baule d'argento gratuito e via perfetto o vediamo un po come queste emoticon non la posso non posso vedere l'anteprima ma dai ma perché vabbè la vedremo in in partita allora upgradiamo questo deck ragazzi finché arriviamo al top basta che mi bastano ste monete ragazzi speriamo la spera la upgradiamo mi sto facendo pure un batto di esperienza ragazzi buon per noi pure il principe vediamo un po se questo deck ragazzi funziona eh perfetto pure le frecce ragazzi bene porca tro 50.000 no aspettiamo un attimo vorrei un attimo gradare un po tutto però 50.000 ragazzi mi sembra pure troppo eh non ci arrivo nemmeno non ci arrivo nemmeno peccato peccato vabbè per adesso ragazzi il deck è questo non è tutto maxato e devo dire che sono a 5179 trofei quindi troverò giocatori medio forti ragazzi vedremo se funziona questo deck ragazzi vediamo un attimo vediamo un po faremo le solite tre partite aspettate ma nel clan c'è qualcosa qui va bene a war torniamo qualcosa vi aspetto nel mio clan ragazzi vi ripeto che il clan è aperto dai 3.000 trofei in su potete entrarci che chiediamo che chiediamo mega sgherro come al solito ho per esempio questo giuseppe se lo prendiamo grazie mi servono i mega sgherri ragazzi allora direi di iniziare quindi questa challenge possiamo dire questo deck del primo utente in italia quindi andiamo faremo tre partite vediamo se riesco a giocarmi tutto per tutto con questo deck certo non ho mai usato però devo dire questo un principe con il principe nero questo non l'ho mai veramente usato iniziamo così perché lui ha splittato due arcieri per carità ha fatto benissimo noi però giochiamo in un altro modo di quello che fa ciccio gamer cioè attacchiamo un po da tutte e due le parti certo che quei tre sgherri l'ho messo un po male 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 però niente però niente stiamo zitto e basta facciamo così forse ho sprecato un po di elisir ragazzi forse ho sprecato un po di elisir questo non lo metto in dubbio questo non lo metto in dubbio lui mi sta facendo un po di danno un po di danno e io ancora non gli ho tolto nemmeno un pizzico di qualcosa certo però lui ha un deck come posso dire quelli veloci è normale è normale che troviamo un po in difficoltà splitta tutto lui splitta tutto e per carità non fa male non fa assolutamente male a farlo io quel mega sgherro mi sa che l'ho sprecato non riesco a fare un attacco questo deck raga non riesco a fare un attacco e poi ragazzi questo mortaio è una carta veramente che odio è una carta che veramente odio allora noi facciamo belli così forse no ma qua è veramente un casino veramente un casino forse ho utilizzato bene questa questa palla infuocata però non ci sono sinceramente speranze dai 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 su forza forza niente non ci sono speranze ragazzi non ci sono speranze non sono capace io ad usarlo questo deck forse perché io gioco solo a un deck mio che è quello la che vedete pure nella vostra sinistra e niente praticamente non gli ho tolto nulla 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 non è veramente un deck per me va ci vogliamo riprovare vabbè ci riproviamo perché no voglio vedere un attimo ragazzi perché mi sembra strano a parte ragazzi mi trova tutti quelli del livello 13 ma mi pare normale raga che io sono un livello 12 e mi trova quelli del livello alto che poi sinceramente ci devono solo vergognar questi qua di livello 13 ancora che stanno a 5161 europei e ci hanno pure pure roba al massimo è questo che mi fa ridere ragazzi allora non cambiamo argomento cazzo qua ci abbiamo qualcosa di pesante qualcosa di pesante raga qualcosa di pesante il contrattacco ragazzi e come faccio io il contrattacco e niente il contrattacco ragazzi vince sempre il contrattacco vince sempre ma strano strano infatti ragazzi non è che mi convinceva tanto infatti dicevo ma com'è due principi cioè forse non è non è un deck per me ragazzi forse non lo so utilizzare questo è il punto ma vaffanculo ma attacchiamo di là bene potevo andare meglio vai così dai 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 e niente e niente 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 non si può fare niente niente assolutamente ora ora se io riparto praticamente con no è inutile è inutile potrei fare così ora lui si mette in difensiva ma questo è logico ragazzi tutti lo fanno se sta a vincere è logico che fai così per carità per carità sto deck chi lo gioca più ragazzi chi lo gioca più non è che voglio una vittoria ma almeno una torre ragazzi una torre lui mi sta buttando il finimondo io più di così che posso fa niente niente è inutile raga è inutile è inutile che gioco nella difensiva io dovrei attaccare ma lui mi ha fatto adesso tre corone lui mi ha fatto adesso tre corone non sono io capace a usarlo questo lo so però dai mi aspettavo qualcosa di meglio con un deck del genere non lo so ragazzi ci riproviamo ultima volta dopo di che vaffanculo io riutilizzo il deck mio e chi si è visto si è visto col cavolo che ci gioco con sto deck ho un po' migliorato tutto ma veramente a parte che non è tutto maxato però dai mi aspettavo qualcosa qualcosa di più ragazzi sinceramente eh però vabbè dai facciamo un'altra partita e vediamo come va vediamo come va oh livello 12 finalmente no cazzo ho usato il mio deck porca puttana andiamo nella prossima partita ma non è possibile ragazzi ma perché perché ho fatto delle cazzate del genere ok ragazzi eccoci qua non è possibile non è possibile mi trovo agente di livello 13 non si può fare non si può fare non si può fare non si può fare abbiamo trovato i livelli 12 se ho giocato col mio deck allora vaffanculo pare che lo fa apposta comunque ci riproviamo lo stesso oh comunque forse con questo deck ragazzi che c'ha lui potremmo fare qualcosa forse eh bello e chi ci ha mandato lì no no non fare lì vaffanculo ti prego eh lì ragazzi dai che potevo di faccio così tranquillo però già io so che con questo deck che c'ha lui quindi lo posso contrastare questo già è tanto per me ah c'ho la specchio bene non si è ricordato che c'ho praticamente il principe principe nero facciamo così forse è un attacco un po' macrabo però falso attacco falso attacco col gigante che hitta un po' ci sta ora spariranno un po' tutti infatti però un po' di attacco l'ho fatto e per me è già tanto devo dire la verità poi ragazzi sto giocando uno di livello 13 quindi le torri tolgono di più fanno un po' di tutto facciamo così buono buono ragazzi buono quel piccolo sgherro che lavora lì è sempre ottimo certo però che questo lo devo un attimino indietreggiare no te prego vaffanculo no poi gli dici che non scappano quelle parolacce ma è logico già è tanto comunque che abbiamo fatto il contrattacco raga abbiamo fatto il contrattacco un po' fatto male ma l'abbiamo fatto e qui lo cazzarola lo indietreggiamo un po' tutto lo indietreggiamo vieni qua ti porto un po' dietro oh bello raga bello mi sta piacendo questa giocata mi sta piacendo questa giocata mi sta piacendo perfetto aia te prego non toccare la mia torre ah 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 no aspettate no è fatta è fatta ragazzi è fatta è fatta abbiamo vinto non ci credo nemmeno io abbiamo vinto questo deck abbiamo vinto con questo deck per me è già tanto per me veramente è tanto abbiamo vinto una partita su tre ma veramente per me è tanto il deck non è maxato il deck poi io non l'ho assolutamente provato e questo per me è tanto è tanta roba ragazzi infatti ho migliorato il deck insieme a voi non sapevo in che modo potevo mettere le carte ho eseguito diversi metodi alcuni hanno funzionato alcuni no ma comunque secondo me sto deck per carità ci deve avere esperienza nel utilizzarlo ma comunque secondo me può essere un buon deck può essere un buon deck ma di avere proprio tanta 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 esperienza per adesso ragazzi io sto bene con questo io ragazzi continuo con questo detto ciò ragazzi spero che vi sia piaciuto questa mia opinione di questo deck ragazzi del primo giocatore in Italia logicamente ragazzi questo deck non è tutto maxato poteva essere pure un bel deck se era tutto maxato e tutto quanto però ragazzi abbiamo vinto abbiamo vinto così per me va bene per me va bene e detto ciò ragazzi quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo deck e questo video può finire così allora ragazzi io mi dimentico sempre di farvi le robe allora come per esempio l'emoticon nuova che abbiamo sbloccato questa qui oh carina mi aspettavo qualcosa di meglio comunque vabbè poi ragazzi ho sbloccato praticamente l'emoticon del draghetto che si vinceva nella battaglia nella sfida ragazzi perché questa è carina comunque vabbè va concludiamo il video ora speriamo che questa partita la vinco ebbene ragazzi questo video di clash royale sul primo deck in italia confine così spero che vi sia piaciuto lasciate like se è per questo fatemi sapere cosa ne pensate di questo deck se è per voi o non è per voi se siete capaci di utilizzarlo o non siete capaci di utilizzarlo un po' come me ragazzi così così comunque fatemi sapere le vostre opinioni di questo deck ripeto io qui in questo video ci ho provato nel giocarlo così per curiosità siccome l'ho visto che giocava anche ciccio gamer quello e quell'altro avevo un attimino quella curiosità nel provare questo deck però va bene ci siamo riusciti non ci siamo riusciti abbiamo vinto una partita su tre per me assolutamente va bene perché sinceramente secondo me non è un deck che fa proprio per me io preferisco il mio solito deck questo qui sinceramente ma comunque vabbè 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 chi non è iscritto iscriviti subito mi raccomando i social sono qua sotto in descrizione instagram lollo zero delle best e telegram chioccia lollo zero delle best e ragazzi io vi saluto vi ringrazio per aver visto questo video eeeh ciao 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 ciao